ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora oggi vado a sistemare qualche batteria che ho recuperato in queste settimane sono tutte celli 18 650 samsung ora andrò a misurare i voltaggi e andrò a mettere da questo lato quelle buone cioè che hanno da tre volti in su da questo lato quelle che non vanno bene sono da buttare solitamente almeno fino a questo momento ho trovato celle da zero volt a un volt quelle con questi valori le andrò a buttare a ora ragazzi per testare le celle io utilizzerò normalissimo tester messo su volt 20 volt puntali vado a misurare le tensioni di ogni cella questa per esempio è 3 volt e 80 questa che non va bene è 0,06 perciò già in partenza questa non va bene questa va bene ho da provare circa 600 celle vediamo quante riesco a recuperarne sono tutte uguali questo brand samsung 29 perciò massimo 2800 miliamper ora sono ottime celle davvero hanno una scarica ho provato anche fatto qualche test in cortocircuito mi hanno dato anche 50 ampere di picco una sola cella sono ottime davvero ottime batterie a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.